Ciao a tutti ragazzi, sono Epic ed oggi siamo su The Very Organized Team Come vedete sono senza il mio adorato Mrs. Slime Ma che è successo qui? Aspettate ho fatto un casino Ho spostato il canale Per inizio giornata Andiamo a fare una serenata adesso No la fotocamera Non questo La fotocamera Dove è andato a finire? Quello che stava lì Sì quel coso Spiegatemi Oddio Il profumo? No eh Andiamo qui Cuscine a terra normalmente Si lasciano le cuscine a terra Si mettono nel cestino quando non si usano più Giù se ci arrivo allunga la tua Che è? Oddio Ma chi è? Il temporale? Allora lui Oddio Oddio Camina Oh il telefono Mi regalo la pianta Non venire su Non venire su Ok Oddio 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 No segnalina no no scherziamo 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 corri no 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 merda iniziamo un vaso a cosa serve un vaso spiegato sì vabbè 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 sì ok togliete molto bene vediamo qui ci serve questo no ovviamente come se fosse qualcosa che ci serve appunto ecco adesso applichiamo andiamo a perché la nostra ghirlanda di natale ghirlanda 7000 dove chiamola ghirlanda alla porta naturalmente chi non lo fa oddio ma sono superman vediamo cosa è picasso ragazzi arte questa è arte arte minchia se riesco a metterlo wow wow calma sì sì zio oh metterlo dritto sai metterti dritto oh no no ma buonanotte non mi serve di vicino io dormo in piedi come gli elefanti minchia se vieni su guarda che ti molesto con questo albero se mi piace no che stanno a non di la molto bella molto bene molto bene Oddio! 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 Scherziamo! Scherziamo! Era auguri di buon Natale! Auguri di buon Natale! Auguri! Sono bambino Natale! Stavo consegnando il pacchetto regalo che le abbiamo consegnato! Oh! Madonna! Oddio! No! Perché sto andando su? Torna giù! Torna giù! Torna! Buonasera! Sì! Sì! Molto bene! Sì! Che? Cos'è? Spiegatemi cos'è questo... Che è? Boh... No! No! Aspetta! Ah vada che dà bra! Minchia veramente sparito! Sono un mago! Basta! Ancora mettete in dubbio le mie doti di mago? Ora voi spiegatemi con quale logica succede questo! Quale? Quale? Non c'ha senso... Vabbè... Sotto il letto! Sotto il letto! Oh! Oh! Io vedo dall'altra parte questa magia! Guardate! Ah no! Era l'ombra! Io 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 io! Temporale, probabilmente quando arriva lì... Staspetta un po' più, no? No, no, no! No, no! Amore! Io ho fatto paura! Io fa... No, no, no! Te volevo chiedere se volevi sposar... basta adesso c'è la mobile phone ecco fuori una non avevo letto nemmeno la lista il tablet eccolo ancora noi no il tablet il tablet sai che vuol dire tablet è il telefono perchè sparisci non ti puoi vedere oh bravo bravo ok ho la tremola ragazzi incredibile che cosa fa guardate guardate le stavate ma che ha fatto paura o orculo qua ok 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 comunque adesso se non va da un'altra parte no no puttana ci hai ripensato ah aiuto no 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 scherzavo sono buono tuo marito mi ha pure failato guarda ora fila no oh fila fila zitti 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 la nana Madonna non lo so visto davanti. Oddio. 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 Corri. 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 Non ti ferma. Non ti ferma per la patria non ti ferma Madonna Oddio È più forte Ciao ragazzi! Ponte per scrivere l'alto! Ponte per scrivere l'alto!